No, 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 no Aspetta, che fai tu? Voglio capire... Ah no, giusto, vai Che è giusto? Spostalo di qua Fai la sexy cosa girato da questo lato Sexy move Sei libero, sei spensferato C'è anti-stress Questo stile di ballo E questa musica soprattutto Allora Intanto abbiamo il circo Gianluca Molin Madonna cosa state facendo? Sembrate solo degli stupidi Scusa Che bribe che si è caduta La stanza è questa, è finita, è bruttissima E' bruttissimo Ok? Guardate qua Oddio Oddio mio Lo faccio vedere Dai, vai serio? Sei pronta? Sì Sì Mi... Mi... Aiuto Che capello Che capello Che capello Che capello Che capello Scusatemi un attimo Adesso Ci ha donato, ci ha detto Se sei vets, sei fregno Così Così Nicolassi E' da pudore Che bella la cartoncina di prima però Bello Anche la ritabba è bella Sì Voglio sentirlo Cosa? Anche la ritabba è begg segmentata Ho baciato fratino Per quanto tempo mi sono andato a ammigliare questa roba? Secondo me ci vuole un altro po' di liquido Bagnammi un po' le mani con il liquido Non troppo eh Anche a me per favore Ancora Un po' qua Ma come mi asciugo io qua? Fuori la prima finestra Fuori Sì Ah ok per un po' bisogna modellarlo Uno due tre No eh Cinque sei e sette Ok Due volte Scusate Dall'inizio E vado Ah, 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 ah Ok Ok, direi che può bastare No, raga Bellissimo Balletto dell'anno Cioè, raga Suda, eh Ci va molto, molto bene la tua amica Laura è la top, Laura fa morire Tutti Raga, no, perché siamo delle Oddio, è tanto liquido No, liquido, liquido Non sono più su quinta e mezzo No, non è stato spaventato Eccolo Eccolo Sto uscendo Sto uscendo, raga Eccolo, che c'è Guarda, 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 guarda Con le mani, con le mani Aspetta, fammi vedere, ancora un po' di liquido ci vuole, secondo me Vai Entra in live da Mary Raga, ma come si fa a entrare in live di Mary? Ditegli che apre Twitch su Google E mi scrive Maria Rosaria Eccola No, fa schifo con latte, Ale, fa schifo con latte Allora, ci abbiamo degli ingredienti particolari Qua c'è Coca-Cola Salsa di soia Curcuma Pepe nero Ogni volta che Adesso c'è anche l'arancia C'è anche l'arancia E' dovuto Ecco Oh mio Dio, bellissimo Mi da allenarti? Sì Questa Questa è la prova Che mi ha salvato Il destino Questo è il destino Non si vede, cazzo Ok, ragazzi Chiamate tutti quanti Ormai l'avete indovinato Scrivete tutti Chiamate voi Eh sì Solo Jacqueline Ok Ragazzi Sono le paste casini Allora Risegniamo il passo Che vi abbiamo spiegato Fino adesso Vai ragazzi Ok E' la molto meglio La diretta di Mary Oh raga Oh raga Ho capito Mi dispiace Ok Che voglio questi video Mi dispiace Cioè Scusate che ho potuto aspettare Non volevo Comunque Party State A perde Mica Vincerà Bri Però mi ti falleggio Fra Comunque Devi togliere le audio Bri Fai sì Con la destra Se ti piace Patrizio Se sto bando Fortunato Patrizio Niente sì Con la destra Ok 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 Marroni Diarrea Che vita di merda No Ragazzi Fateci un meme Per favore Voglio un meme E dico Evviva Che vita di merda Diarrea No Basta Basta Leggis Lucicanti Quei non tappo Bebi Tutti che qua Sera mi salta tutto Mamma mia Che ridere Ehi Ciao ragazzi No ma Hai visto quanto Grande Quanto sono Grande Le scritte Delle shot Hi Guys Enormi Non lo so Mettila un po' più grande Metta un po' più grande Secondo te Io quasi almeno ci leggo Sono stata quattro giorni A vedere così I miei occhi Già non ci sono No Vai raga Ok raga Direi che Direi che Direi che Qualcuno Sento veramente Dei rumori Sento veramente Dei rumori Qua dentro Aaaaa Come il c***o Aaaaa Mà Ma che c***o Fanna C***o Ma Che c***o Sta qua era un'altra altra Ditemi che vedete qualcuno voi Perché io non sono molto attenta a queste cose sinceramente Io ne voglio andare subito Perché mi sta rendendo un po' d'ansia Va in safe che è meglio che tra poco arriva la bufera Oddio mio Ma si corre? Questo cos'è Grazie mille Dai ragazzi ma così non vale Non vincerò mai Chi è che crede che vincerò Io no Io secondo me non vincerò mai Ma per cos'è Ma chi l'ha fatto partire sto test di merda Non io Ce l'ho più veramente Andiamo avanti Con l'uno ragazzi 3, 2, 1 Raga Ma è così semplice No dai per favore Mary Sei allenata anche stamattina Ma a me la sera Non mi allena le braccia Mi allena il culo 3 3 2 1 Così raga Basta Basta Meno Meno Si si basta Ok Ok Quindi metto dentro Vado raga Vai Mescolo Vai Possiamo fare interazione Quanti siamo In live ragazzi Quanti siamo No raga non l'ho schiacciato io Ve lo giuro Cioè avete visto pure voi che non l'ho schiacciato io Che cosa è successo Schi Vado a pizze Vado a pizze Mi allà Quanti siamo Vado a pizze 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 Ray Grazie a tutti.